Giuseppe Bile, l'autore del gol della Fortitudo Camaro, un gol bellissimo, ma hai mirato veramente nel 7? Ho cercato di mirare là, poi è il tiro, come si dice, della domenica che può andare a segno. Un bel gol alla fin fine. È stato il gol che ci ha portato in vantaggio, una partita combattuta, penso pure meritato. Il 2-1, una bella partita. Secondo te il Sauga dove ha pecchiato nei vostri confronti? Nei nostri confronti? Noi sulle fasce corriamo molto, loro giocano più di fisico, il campo era duro, però all'inizio mi trovavo un po' in aria, poi ci siamo organizzati bene. La Fortitudo secondo te può raggiungere questi play-off? Sì, decisamente. Sì, decisamente. Sì, decisamente. Sì, decisamente.